Allora, siamo verso la fine della giornata, un po' di paglia scoperchiata dal fortissimo vento che c'è stato l'altro giorno, però l'orto sarà perché è mio, quindi ogni scarrafone è bello mamma sua, ma mi piace tanto. Non è perfetto perché non ho tutto questo tempo, ma comunque è carino. Ci sono anche le rosette dei papaveri e stanno nascendo sempre più fiori. Ciao fiorellini, me ne vado in Sardegna, mi raccomando, anche le fave. Qua c'è questo fiore bellissimo, mi spiace che non riuscirò a vederlo sbocciato, chiederò a qualcuna delle volontarie di venire a fare un salto se ha voglia e dargli un occhio. Ciao Anca!